che per il Frosinone inizia un nuovo campionato il 3 di marzo forse pensando che per quella data lei avrà a disposizione tutta la forza lavoro comunque io mi auguro, anzi spero, i latini dicevano spesso ultima idea spero fino alla fine che arrivi qualcosa di buono anche prima del 3 di marzo e allora le chiedo ci può dare la ricetta necessaria perché la squadra possa uscire e venire fuori dalla partita con la Roma con un risultato positivo? Se ci postano ricette ci sarebbe anche per far diventare calciatori ragazzi appena nati o perlomeno non ci sono ricette, c'è il lavoro, c'è tanta dedizione ci sono sì le difficoltà che abbiamo in questo momento nel mettere giù una squadra che possa avere anche delle alternative specialmente nel reparto difensivo è il fatto che dobbiamo tornare sia a esprimerci ma anche secondo me essere maggiormente compatti durante la partita o perlomeno subire un po' meno gol l'ho detto già altre volte, lo ribadisco e lo ridico fino al punto che arriverà il momento diciamo giusto dove la squadra riesca a dimostrare quello che veramente fa durante la settimana e il grande impegno che mette all'interno degli elementi non condivido il luogo comune o quello che si sente dire in giro per un semplice motivo se no ci saremmo a fare una nuova preparazione, ce ne siamo a casa invece noi siamo qua per combattere partita dopo partita avendo anche grande bisogno del sostegno del nostro pubblico al contrario che ci credano per primi, che ci dobbiamo credere per primi di poter fare alla grande, di poter far bene e affrontare al meglio questa partita con le nostre forze, con le nostre difficoltà che abbiamo in questo momento ma consapevole che ce la possiamo girare sempre con tutti Firenze ci siamo trovati secondo me dopo 20 minuti sotto di due gol io dentro di me dicevo ma non credo neanche fosse possibile per quello che abbiamo mostrato prima e per le opportunità che abbiamo avuto credo tre o quattro prima di prenderne due e poi ovviamente la partita è andata in una direzione totalmente diversa Ciardi Mister niente domanda tattica non perché non ce l'avrei e nemmeno perché mi manca la curiosità di capire dalla tua non risposta quella che sarà la formazione perché tu non rispondi ma comunque io la riesco a capire quando faccio la domanda tattica non te la faccio per un semplice fatto perché domani secondo me la tattica va in secondo piano la Roma non è una squadra di qualità assoluta come il Milan è una squadra secondo me più cattiva più sporca come gioca e allora le chiedo servirà quel frosinone visto contro il Cagliari quel frosione tignoso quel frosione cattivo quel frosione pronto a sfruttare gli uno contro uno a lottare in ogni angolo del campo piuttosto che un frosione bello da guardare come è successo nei primenti di Firenze bello tatticamente come è stato con il Milan io come dici tu non possiamo non avere quella ferocia, quella cattivella, quella determinazione all'interno di una gara mettendoci anche all'organizzazione quello che uno va a esporre non è detto come abbiamo mostrato anche in passato di fare un buon gioco ma essere anche cattivi e determinati sicuramente un po' di malizia, un po' di determinazione in queste ultime partite ci è mancata ma anche la condizione di qualche giocatore che deve andare a migliorare ricordiamoci anche gli adattamenti che abbiamo fatto in questi ultimi tempi se no ci dimentichiamo sempre che ogni settimana abbiamo avuto grandi difficoltà nell'andare a impostare una linea difensiva adeguata oggi ci ritroviamo tra i convocati quattro difensori per fortuna sono due terzini e due centrali per quello riusciamo ad avere una linea difensiva nel caso in cui dovesse succedere qualsiasi cosa perché nelle partite succede anche tra virgolette sperando che non accada ritroviamo sempre quelle difficoltà che ci sono state nell'andare sempre in emergenza andare a assistere a queste cose però come dici te non può mancare cattiveria, determinazione, furore agonistico queste cose sono alla base di ogni squadra sulla Roma non condivido tanto che è una squadra in questo momento sporca perché con De Rossi secondo me ha una tipologia di gioco più ricercata, differente è una squadra che cerca di giocare di più e di mettere un pochino anche più palla a terra cercando anche di fare la partita per questo sicuramente sarà una partita magari differente della Roma che abbiamo visto in precedenza o nelle altre partite se vi vedete quella col Feyenoord secondo me Daniele De Rossi sta facendo un ottimo lavoro hanno fatto una buona gara intensa in campo europeo dove non è mai facile ma giocando pallone su pallone con una buona anche qualità Giuliani Mister buonasera Giovanni Giuliani dell'Universo riallacciandomi un po' a quello che diceva lei in conclusione del suo intervento la novità di questa Roma di De Rossi è che porta anche più uomini in zona gole rispetto al passato magari si affronta un frosinone con tante tantissime defezioni con la difesa contata io le chiedo in settimana credo che abbia lavorato tanto sull'aspetto psicologico per i ragazzi magari facendo anche rivedere che cosa hanno andato gli errori commessi a Firenze ecco è stato più importante forse il lavoro psicologico che quello sul campo visto che comunque gli uomini sono contati guarda io sono dell'idea prima di tutti i ragazzi non hanno avuto una giornata libera questa settimana e ci siamo sempre allenati e siamo stati sul pezzo perché c'è stata grande disponibilità da parte loro perché volevano rimettere subito in campo e cercare di andare a lavorare su quelle che sono stati tra virgolette gli errori o i difetti però sono dell'idea che le cose vanno anche riviste in tv ma il calcio è dinamico non è statico per quello vanno allenate certe cose e noi siamo scesi subito in campo questa settimana per cercare di rimettere certe situazioni all'interno dell'ara poi ci sono le situazioni il calcio fortunatamente non è una scienza esatta tornando al concetto della ricetta non esiste esiste mettere in campo il meglio che si ha o mettere il massimo della propria determinazione e qui non ci possiamo permettere di scendere in campo con le pantofole questo è l'obiettivo ed è quello che penso che vogliamo un po' tutti compresi i tifosi del Frosinone però ricordiamoci sempre questa squadra da dove arriva quello che stiamo facendo e quello che sicuramente possiamo fare meglio ma dobbiamo essere ancora di più adesso uniti, compatti sì andare a ricercare quello che non va ma a ricreare anche quell'ottimismo che ci ha un po' contraddistinto e come si arrivava allo stadio sentivi quest'aria di gioia io questa la chiedo è ovvio che dopo tutti quanti chi è che non vorrebbe avere 10 punti in più perdonatemi non penso che sia i ragazzi sia io con voi non vorreste averlo però ricordiamoci sempre da dove si arriva che percorso stiamo facendo che tipo di rosa abbiamo tirato su con per di più mettendoci tutte le grandi difficoltà che ci sono state in questo momento perché sapevamo di poter avere dei momenti di difficoltà ma adesso dobbiamo essere bravi tutti insieme non solo io con i ragazzi perché è troppo facile o sannare o dire sono forti conservati adesso siamo diventati magari tutti quanti meno bravi dobbiamo essere bravi ad avere un equilibrio sapendo che l'obiettivo non è marzo non è febbraio ma è il finale ricordiamoci non ve lo scordate è importante è un messaggio che voglio mandare a tutti ed è quello che dico all'interno della squadra è ovvio che ci sono momenti in cui prima tirare un po' le cinghie prima tirare anche un po' le orecchie o fare altro fa parte di un percorso che si fa anche penso nelle vostre famiglie in generale si fanno per quello dobbiamo essere bravi adesso essere bravi ad avere un equilibrio giusto Andrelli prego ecco mister Alessandro Andrelli Radio Day proprio nell'ottica di fare più gruppo possibile ci sarà il sold out allo stirpe e non è una novità quando soprattutto arrivano a Big cosa dire ai tifosi a chi magari in questo periodo è più preoccupato del risultato piuttosto che di andare a guardare quello che succederà da qui a qualche mese qualche tempo fa mi fermavano dicendomi che si divertivano a venire allo stadio mi auguro che continui ad essere così ovviamente lo ribadisco un'ennesima volta insieme a cercare di divertirsi vorremmo portare a casa in questo momento della stagione che diventa non tanto è un altro campionato si sa sempre nel finale nelle ultime partite importantissimo serrare i ranghi magari a volte essere meno esteti ma pratici sì però non perdiamo quello che è stato un po' quello che ci ha accompagnato che ci ha fatto arrivare dei punti di vantaggio nei confronti delle dirette concorrenti per quello devo dire solo a gente di esserci vicini di sostenerci come hanno sempre fatto come hanno fatto a Firenze perché sono delle loggiare nonostante essessimo sotto vedendo anche che magari la squadra si ha avuto delle rifiutate ma non è che è scesa in campo per non fare la partita per non cercare e inconsciamente magari siamo stati un po' troppo superficiali in certe situazioni sì però la squadra voleva fare la partita voleva portare a casa punti come lo volevamo fare io come lo volevamo fare tutti quanti insieme per quello stasettimana ci siamo tolti anche la giornata tra virgolette libera perché avevamo bisogno di ricompattare certe cose di parlare a livello anche a livello tornando al concetto psicologico ma che non basta perché poi le cose vanno fatte non solo dette Biaggi Biaggi messaggero mister buonasera ciao e ripercorrendo un po' ripensando a quella che è stata la sua esperienza passata insomma da che lo liga alla Roma da giocatori dirigente allenatore non so se ha avuto modo in queste settimane di sentire anche per un saluto De Rossi ma la sensazione che gli ha trasmesso è quello della bellezza di allenare una squadra come la Roma a Roma o della complessità e delle difficoltà di allenare la Roma a Roma per la sua esperienza ma per quelle che sono adesso i suoi risultati e per come è arrivato sono grandissimo entusiasmo poi ci sono dei momenti buoni e altri meno buoni però mi è piaciuto come ha intrapreso questo lavoro la mentalità oggi ha fatto arrivare un messaggio è stato simpaticissimo ci dici la formazione ci dici un po' quello che fate per dire che è rimasto sempre un rapporto sano pulito che poi diventerà tra virgolette da nemici per poco tempo però io ho un grande rispetto prima di tutto perché è stato un mio ex calciatore e anche un mio ex compagno di squadra lui era ragazzino e il tempo ti fa capire come sto invecchiando io e come stanno cambiando un po' i tempi e lui è diventato allenatore però mi piace il pensiero che ha è normale che possiamo avere un pensiero poi ci sono momenti e momenti delle stagioni dove devi essere bravo anche a gestire dei momenti di difficoltà come mi sta succedendo in questo momento a me legato a tante altre cose però ritengo che sia un ragazzo un allenatore di ottima prospettiva ma per me allenare la Roma è più bello o più complesso? ah ma dicevi il mio pensiero pensavo al suo pensiero per me è stata un'esperienza bellissima non bella è ovvio che poi come tanti amori finiscono in un modo o nell'altro però se dovessi raccontare quella che è stata la mia esperienza specialmente nel secondo anno non finirei qua ma farei molto contenti solo tutti i giornalisti romani in questo momento invece voglio tenermi quello che è stato di bello e non andare a ricreare delle polemiche che non servono in questo momento per quello che è stato anche perché non ci sono più dirigenti che ci sono adesso o altre situazioni per quello mi tengo il bello che c'è stato e ricordo di ogni persona che si ferma mi ricorda sempre di una partita che io dico sempre tante volte magari è stata quella che dico è stata bellissima però da lì magari poi è partito tutto il resto Martini mister buongiorno all'andata all'Olimpico durante all'andata all'Olimpico durante il secondo tempo scattai una foto che conservo in cui il Frosinone avvolgeva praticamente la Roma rinchiusa nella prova a metà campo poi alla fine il risultato però ci ha visto sconfitti le chiedo sono passati tanti mesi la Roma ha anche cambiato allenatore cosa non deve commettere il Frosinone domani per cercare di cambiare un po' il risultato della gara e poi le volevo chiedere invece come sta Regnier perché nelle ultime gare ho visto che gli ha sempre preferito a Rui quindi le volevo chiedere insomma come sta e come lo vede ma io penso che ci sono tanti giocatori che hanno giocato meno specialmente dove c'è in questo momento più abbondanza anche in mezzo al campo e ovviamente che alla fine devono scendere in campo 3 o 4 di questi o qualcuno li ho fatto fare il terzino e li ho tolto dal ruolo di centrocampista però devo dire che sono scelte che vanno anche un po' in base alle partite alle caratteristiche a quello che io vedo durante la settimana sì in questa partita c'è ancora un ballottaggio tra lui e Rui e valuterò uno dei due scendere in campo dall'inizio sono valutazioni che sto ancora facendo però anche lui come Reiner è cresciuto tanto nel rendimento specialmente durante gli allenamenti perché ha messo più allenamenti e lo vedo molto più attento e concentrato rispetto a quando poi era rientrato dall'infortunio a cui ho dato anche se vi ricordate la possibilità anche di giocare subito dall'inizio se qualche partita precedente in casa mentre tornando alla partita errori è una squadra che ti può punire al primo errore perché ha giocatori di grande qualità specialmente davanti che possono decidere la partita da un momento all'altro vengono dal mio punto di vista al di là della sconfitta con l'Inter da un momento positivo dove la squadra si è scesa un po' in tutte le partite specialmente il campionato nel secondo tempo ma ha sempre impattato alla grande sulla gara per quello dobbiamo essere bravi anche noi a impattare benissimo sulla gara specialmente nei primi minuti Jacobelli Salve Misteri Alessandro Jacobelli di G24.info a questo punto le chiedo come e dove si può far male proprio nello specifico ai giallofossi perché il frusinone ha dei limiti nella fase difensiva anche numerici come organico però poi in attacco sa far male a chiunque possiamo dire soprattutto in casa quindi quali sono le chiavi e magari le fragilità della Roma che è una squadra che è migliorata moltissimo nel giro di Boro con De Rossi però evidentemente qualcosa ancora può concedere sì prima di tutto noi siamo bravi a far malesi davanti ma tutti devono capire che la fase difensiva si fa in undici non in quattro per cui a volte quando sento parlare di fragilità difensiva sì è vero si possono commettere anche dei errori di reparto ma c'è anche sempre tra virgolette ci deve essere l'aiuto di tutte le altre componenti dai centrocampisti agli attaccanti è fondamentale essere bravi ad essere aggressivi nel modo giusto non lasciare tempo e spazio quello che un po' è successo anche con la Fiorentina dove io ho sentito dire o mi dicevano eravamo lunghi io invito tutti quanti a rivedere la partita se noi eravamo lunghi magari eravamo meno aggressivi e feroci in determinati momenti della gara quando andavamo a riconquistare palla il che è differente però il fatto di una squadra che si allungava non la condivido invece condivide il fatto che dobbiamo essere più cattivi e determinati poi quando andiamo a difendere insieme di squadra per quanto riguarda far male alla Roma con le nostre armi che sono quelle della capacità di dare pochi punti di riferimento cercando di poter essere anche maggiormente Firenze abbiamo sì anche sviluppato bene giocato bene ma anche lì siamo mancati in zona gol per quello essere cinici cattivi e determinati che quando ti passano quelle 4-5 palle gol come sono successe a Firenze almeno un paio secondo me vanno messe dentro ultima paniccia buon pomeriggio mister considerata la squalifica la scelta di Romagnoli al posto di Monterisi ha risultato ormai che ho già compromesso la rifarebbe oppure era dettata da un problema muscolare che differenza ti fa la mia risposta su un 3-0 per gli altri la mia curiosità nel senso non penso che noi abbiamo perso una partita in relazione a un cambio del primo e del tempo eravamo sotto di tre gol io credo che se l'ho fatto perché vedevo in difficoltà Monterisi è una scelta tecnica se voi pensate invece che Monterisi o altri stessero facendo bene secondo me tutti quanti magari se avessi potuto in quel momento lì avrei dovuto cambiare tanti altri giocatori però se ci riguardiamo poi la partita obiettivamente sì che abbiamo preso dei gol ma abbiamo fatto fatica però credo che non vuoi fare un'altra? no posso così ce l'hai quella di riserva? ma non per qualcosa per dirti che secondo me se tu me lo dici che siamo 0-0 faccio un cambio e perdiamo ti do ragione alla tua domanda come vedi mi fai una domanda che ha anche un senso differente riferimento alla munizione che ha preso poi da Magnoli obiettivamente 3-0 cercato in quel momento che la squadra la vedevo in difficoltà e moralmente poteva avere un impatto devastante tra il primo tempo ho messo un giocatore di maggiore esperienza quello era l'obiettivo solo quello se vuoi la spiegazione è questa poi che è stato ammonito ovviamente se tu la leghi a questa cosa sai che sinceramente poi quando l'ho fatto che tu sei preso e ragioni su tante cose mi ricordavo che l'hai diffidato ma no ma no perché lo sapevo però durante il pensiero di un cambio poi se tu mi dici se avessi avuto in panchina 3 centrali o l'uso ardi avrei avuto magari avrei fatto una scelta come dici tu più però in quel momento l'ho fatto una scelta legata all'esperienza che ci sono dei momenti in cui cerchi magari di dire oh cerchiamo di essere intelligenti perché poi si rischia di prendere poi alla fin fine abbiamo preso mezzo in barcato però no